Il Ministero dell'Ambiente intende annullare la gara per la bonifica delle discariche 2A e 2B di bussi, ma non ha le carte, mentre l'azienda belga, che si era giudicata il bando da 38 milioni, ha ancora pochi giorni per potersi opporre, il Ministero ha chiesto i documenti al RUP, il responsabile unico del procedimento, che ne è l'unico detentore. Una cosa, una vicenda paradossale, kafkiana. Cioè, da un lato il Ministero revoca una gara giudicata a una ditta per 38 milioni di euro e dall'altro lato, nello stesso tempo, dice io non ho i documenti, ma ce l'ha un'altra amministrazione. Il bando era stato giudicato ad inizio 2018, ma il Ministero non firmò mai il contratto e ora vuole annullare tutto in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui dovrebbe essere l'Edison, responsabile dell'inquinamento, ad accollarsi la bonifica. Così però si rischia di ricominciare da capo, mentre le sostanze tossiche e seppellite continuano a inquinare anche ora e inoltre, denuncia il Forum H2O, c'è il rischio di un tombamento. Si perderebbero altri 5-6 anni di tempo come minimo e probabilmente Edison già ci ha provato all'altra discarica a Tremonti di aver chiesto di poter tombare in loco i rifiuti e in quel caso ci è voluta una battaglia molto lunga per far sì che invece questo progetto non fosse approvato al Ministero e ne fosse approvato un altro. Quindi davanti a noi questa revoca è veramente una cosa incredibile perché rischiamo di far permanere i materiali inquinati lì per molti anni. L'Associazione per l'Ambiente chiede che sia l'azienda vincitrice del bando a procedere alla bonifica per poi farsi risarcire da Edison e questo benché tra le motivazioni dell'annullamento della gara quella della possibile difficoltà nel recuperare i soldi di Edison e quella secondo cui il progetto del bando non soddisfarebbe i requisiti di bonifica. Ma come? È un progetto che toglie tutto, toglie i rifiuti, toglie i terreni contaminati completamente, li allontana dal sito, li rimuove e noi non conosciamo altre forme di bonifica più efficaci ed efficienti rispetto a quelle andate in gara.